Addio all'icona americana del piccolo schermo Betty White. L'attrice è morta all'età di 99 anni, avrebbe compiuto i 100 il prossimo 17 gennaio. Pioniera della tv, White è stata protagonista di una lunghissima carriera legata in particolare agli show e alle serie televisive, su tutti, Cuori senza età, in cui l'attrice ha recitato per 8 stagioni, realizzando 204 episodi.